Musica Ad Ancona l'assessorato alla tutela degli animali del comune ha organizzato un corso di formazione per i proprietari di cani allora ecco alcuni consigli utili per capire meglio i nostri amici a quattro zampe ed evitare che diventino aggressivi Migliorare il rapporto con il proprio cane, capirne fin dall'inizio il carattere, educarlo a non essere aggressivo questi gli obiettivi del corso di formazione rivolto a tutti coloro che possiedono un cane organizzato presso i locali della prima circoscrizione ad Ancona in cattedra l'istruttore cinofilo di obbedienza avanzata e agility dog Francesco Boari Il modo migliore per rapportarsi con il proprio cane è innanzitutto premiarlo quando si comporta bene e non punirlo, non usare sul cane percosse di nessun tipo ma va premiato quando si comporta bene è fondamentale con il cane giocarci e il rapporto che il cane ha sin dalla nascita con la madre e con i suoi fratelli successivamente quando passa in famiglia è fondamentale che il cane socializzi con tutti i membri della famiglia con i bambini e anche con gli altri cani Autore del manuale Il cane no problem, consultabile presso gli studi veterinari locali Boari ha cercato di dare alla cittadinanza consigli pratici illustrando gli errori più comuni che spesso i padroni attuano con i loro amici a quattro zampe evitare di tenerli per troppo tempo in gabbia e posizionare la cuccia in una zona marginale della casa sono sicuramente alcuni dei comportamenti utili a ridurre la potenziale aggressività del cane Ultimo ma non meno importante, prima di scegliere il sesso del proprio cucciolo considerare il luogo nel quale vivrà Se in appartamento il consiglio è scegliere una femmina più docile e minuta è in grado di svolgere più velocemente le funzioni igieniche chissà cosa ne pensano i migliori amici dell'uomo Grazie a tutti